Mi sento profondamente aromatizzato in mezzo a quest'albero, tra i rami di quest'albero di pepe rosa. Nello sfondo vedete un albero di eucaliptus che abbiamo piantato qualche anno fa, era piccolino così, 40 centimetri, non più di tanto. L'eucaliptus ha una caratteristica particolare. Il fenomeno della difilia comporta, cioè, doppia forma di foglie, cioè le foglie falciate e lanceolate. E questa doppia realtà delle foglie ci fa cogliere l'aspetto dell'uomo che ha una duplice natura. Una natura esterna, fenomenica, percettibile, corporea, biofisica. E' una natura psicologica, una natura capace di anelare ad una realtà che va oltre, oltre l'apparenza. Ed è questo aspetto ambivalente dell'uomo che gli fa cogliere la permanenza nella storia e l'anelito alla metastoria. Ecco come sorge poi la realtà di Gesù Cristo, che è un elemento che sintetizza tutta la realtà dell'uomo, sia nell'aspetto antropologico in senso prospettico, e quindi la vitalità biologicamente intesa, sia sotto l'aspetto psicologico e quindi teologico. L'uomo è naturalmente divino. L'uomo è una insorgenza, è un'espressione, l'aspetto epigonale di questa natura che attraverso i millenni di evoluzione ha portato l'uomo ad avere una dimensione ultraterrena. E quindi l'uomo si interroga sull'oltretomba che cos'è la vita che ingloba la nascita e la morte per una vita senza fine. Perché l'uomo sarebbe profondamente infelice se non avesse una prospettiva di realizzazione eterna, eterna senza fine, senza limite, senza possibilità di essere affossato nella limitatezza dell'essere apparente. L'uomo invece nella sua capacità relazionale è quello che riesce a superare ogni limite e quindi si accorge che può prendere un seme e nel seme scoprire come capacità interpretativa nel seme può cogliere la grandezza di un albero, una quercia di 4-5 secoli. Un seme da niente racchiude in sé tutta la ricchezza della vita. Questa bellezza solamente l'uomo, perché l'uomo è quello che riesce ad avere dentro di sé la capacità interpretativa. È questa dimensione che nessun altro ha in natura. Solo l'uomo può cogliere l'aspetto stupendo che lo caratterizza. Questa dimensione dell'uomo che è la ricchezza straordinaria di sapere, che è e che il suo essere non può essere limitato da nessuno. Essere sapendo di essere è la ricchezza più grande che ha l'uomo. Sapere che nella tua realtà è nascosto quello che in ogni seme è nascosto, cioè la totalità dell'essere. L'uomo è destinatario di una vita, ma di una vita che non è derivata. Ha prodotto la vita ed è il punto terminale della vita. Per questo motivo l'uomo è quello che congiunge l'alfa e l'omega. È il pontefice, quello che fa da ponte, quello che unisce la dualità. Ecco perché abbiamo piantato quest'albero, perché nella difilia c'è questa dimensione duale dell'uomo che però tende all'uno. Per questo motivo Gesù al termine della sua vita e disse perché sia tutto uno. In questa armonizzazione c'è la ricchezza dell'essere tra quello apparente e quello non apparente, quello spirituale che genera la vita ma non la riceve da nessuno. Grazie a tutti.